Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova parte di Minecraft in italiano e in questa parte, vabbè innanzitutto fuori dal video mi sono craftato altri due pistoni e in questa parte io direi di proseguire la costruzione della nostra farm per così dire automatizzata di mucche, le quali ci daranno carne in gran quantità e pelle. La pelle ci sarà utilissima, anzi di vitale importanza per fare i libri. Allora mi sono procurato, mi sono craftato anche un paio di cesoie, anche se ormai servono a poco, ma no, vabbè comunque per abbattere tutte queste foglie che sono veramente l'impiccio, ecco facciamo una grande potatura generale e ci prendiamo anche il legno già che ci siamo, legno non fa mai male, guardate quante foglie, meno male, oddio, meno male che abbiamo l'ascia di diamante che ci consente, oddio, fin dove va questo? Ok andiamo di qua, qua c'è un buco, una caverna, però per il momento lasciamo così. Allora ho allungato di uno, di un blocco in là, qua ci faremo anche una porticina, sarebbe stato da farlo un po' più largo, ma vabbè ormai l'abbiamo fatto così. Allora mettiamo i pistoni, no ecco via, cominciamo, vogliamo cominciare? Proviamo, ok perfetto. E adesso con il redstone wire, ovvero il filo, mi pare, allora aspettate un attimo, ok sto tenendo aperto uno screenshot della mia costruzione originale, allora però mi pare, ah sì sì, dobbiamo farlo, qua possiamo anche togliere tutto questo, ci sarà da mettere degli scalini poi, allora dove sta qua? Questo qui, mettiamo in questo modo mi pare, proviamo, proviamo a mettere la redstone, ma dai, no, qua, qua ci vuole proprio, come mai non va qua eh, deve essere collegato, dai no, qua, qua cosa abbiamo? Allora scusate per questo vuoto mentale però, intanto qua tappiamo, sì qua abbiamo un discreto spazio per le nostre mucche, ah ecco perché, ecco adesso però ci serve un altro ripetitore, qua va messo, ok perfetto, vedete che adesso si attivano tutti e due i pistoni, però, adesso abbiamo un altro problema ancora, che sarebbe il problema del, 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 del ripetitore, ci serve un altro ripetitore, intanto abbiamo un casino di, di, di oggetti nell'inventario, per, fra un po' avremo anche l'inventario, anzi abbiamo già l'inventario pieno, eh, ma, adesso aspettate che voglio eliminare un po' di roba qua, grazie al mio inceneritore, là cosa c'è? Oddio due creeper! No, no 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 no, m'han visto, m'han visto! Oddio che punto sta? Sono là, ma speriamo che non vengano, no, ma no ma perché l'ho messi qua? No, no, cosa ho buttato? Anche il mio secchio di lava Questo, 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 tutta questa terra inutile, il bastone, e basta Ok, andiamo in casa, però è un peccato che i graper non bruciano Allora, dobbiamo farci un altro ripetitore, ok, fin qua tutto ok Il ripetitore, il ripetitore si fa con due torce di redstone, una redstone in mezzo E sotto del, tre di, tre blocchi di pietra cotta Allora, la pietra cotta non mi pare da averla No, ne abbiamo, vabbè ne abbiamo due, ma ce ne serve uno Aspettate che allora ce lo cuociamo immediatamente Ne mettiamo uno, ne mettiamo uno qua Ah, una bistecca, è vero Sì, l'avevamo messa qualche parte fa, poi dopo non l'ho neanche più presa Allora, con tutto il legno che abbiamo non ci sarà di sicuro, non sarà di sicuro un problema Craftarci due redstone, torch Poi la redstone ce l'abbiamo e la pietra ce l'abbiamo Perfetto, allora adesso possiamo craftarci un altro ripetitore Grazie E qua mettiamo, qui al centro la redstone e la pietra la mettiamo così Ecco, perfetto, ripetitore di pietra rossa Andiamo a collegarlo, è ancora notte Adesso vado a dormire perché non voglio delle brutte sorprese Chissà se quei creeper, quei creeper lì ci minacciano ancora Sì, sì, di sicuro perché Perché i creeper non bruciano, allora di sicuro saranno ancora là Niente, cerchiamo di evitarli Non voglio che facciano saltare in aria qualcosa Ah, non vedo l'ora di fare anche le stradine Ok, ci siamo, siamo quasi arrivati E allora, vediamo un po' Ah sì, qua c'è da mettere il ripetitore Dobbiamo fare così E mettere la redstone Perfetto, adesso sono attivati entrambi Poi qua ci possiamo fare Madonna Cioè, ditemi voi se è normale Cioè, io adesso Devo tornare di nuovo là? No, adesso no Scusate, no, adesso faccio un taglio Ecco, sono tornato Sono andato a craftarmi un pulsante Perché ci sarà necessario un pulsante Ok Ecco, questo è esattamente ciò che Cioè, questo sarà esattamente il nostro meccanismo Le mucche saranno tantissime qua Perché ne farò tantissime Anzi, e se io facessi? No, ma per il momento può andare bene così Allora, qua saranno tante Saranno veramente tante Saranno schiacciate l'una contro l'altra In poche parole faranno fatica a rimanere in quello spazio Ma ci rimarranno perché i pistoni sono chiusi Quando noi apriremo qua Cioè, le mucche che saranno qua Qualcuna andrà giù E poi dopo succederà quel che succederà Cioè, ciò che voglio fare adesso Allora, andiamo Ci posizioniamo Innanzitutto Non va bene fatto così E adesso però Adesso però ci manca della terra No, non è possibile Anzi, no, idea Togliamo questa qua Tanto... Fermati Togliamo questa terra qua Tanto per fini estetici la dobbiamo rimuovere E allora tanto vale che la prendiamo Ci mettiamo il legno al suo posto Anche qua la terra qua dietro La voglio togliere Allora, sapete perché mi serve la terra? Adesso ve lo mostro No, terra qua Perfetto Che in teoria dovrebbe andare bene Merda Allora, la terra ci serve Per fare in modo che le mucche vadano direttamente Giù Ok Bene Allora, qua dovremmo fare un meccanismo Di modo che le mucche Che so, potremmo fare anche qua Così togliamo Togliamo qua la terra Deve essere Giusto In tutti e due In tutti i due i lati Ma Perfetto Lo possiamo fare anche di due Lungo due E sotto dobbiamo mettere Due cartelli Adesso vi spiego il perché Allora, mi pare sotto qua Bisogna mettere due cartelli Ok Di modo che Adesso vi faccio vedere meglio Quando noi mettiamo un secchio di lava Ecco la lava Ecco merda Merda Ecco Questa è la morte Più stupida Che si possa mai Avere È la morte veramente Più Più stupida Come ho fatto a morire Nella mia stessa trappola Beh, queste robe Le posso fare solo io Per come sono fatto Mamma cara Cioè Un imprevisto dopo l'altro Questa Non ci voleva Allora Aspettate che apro Ok Perfetto Eh Vabbè dai Può capitare Metto l'armatura Che l'armatura Che l'armatura Comunque adesso Non abbiamo più l'elmo Vabbè Ce lo rifaremo Allora Le cose Di terra No anzi Le cose No mi metto un blocco Lì sotto No Eh scusate se Non riesco bene a spiegare Però Ok No Allora Qua io devo essere Fulmineo Devo mettere La lava In entrambi In entrambi i buchi Velocemente anche Allora Uno qua No 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 Mi pare che No mi pare che vada bene No no Mi pare che adesso vada bene No anche se la mettiamo in un solo buco va bene Però Vedete che Grazie ai cartelli Messi qua Aia Ho preso una testata nella lava La lava non scende Però se noi ci gettiamo un oggetto Verrà comunque Carbonizzato Quindi la lava C'è e agisce Ok Nelle prossime parti Continueremo a costruire